Scendo fuori a Barcellona, bella giornata, MSC Seaview, sto qua prendo lo shuttle bus, la navetta e vado nel centro di Barcellona, continuo a registrare per un po', forse non stacco, questo è il bus. Barcellona la mia città preferita e anche ovviamente la mia città preferita in questo giro venerdì a Barcellona per altre settimane, alcune altre settimane, MSC Seaview, oggi sono uscito l'ultima velocità, l'ultima settimana, l'ultima settimana era brutto tempo, arrivai qua e tornai in nave, andiamo di giustacoli, beh bus di navetta completamente vuoto, mezzogiorno quasi luna, quasi luna di pranzo, per prepararmi poi ci ho messo un po', ho fatto colazione, sono andato in mano, caffè, un mini pranzo, che non avevo voglia di uscire subito perché devo fare altre cose, altrimenti sarei uscito, non ha la giornata giusta altrimenti sarei uscito subito, avrei fatto pranzo fuori. Comunque non abbiamo molto tempo in questo giro, il venerdì a Barcellona, in questo giro il venerdì a Barcellona, alle 4 chi lavora deve stare a bordo, penso i passeggeri alle 4 e mezza, questo è il, chi lo conosce, il porto di Barcellona, sa che c'è un, la questa telecamera mi fa sfuocare le immagini, quando metto io, se mi tolgo si vede, i bus e navetta dovrebbero partire, fra poco, ma non c'è nessuno, penso che parta solo se c'è gente, spero, sono arrivato un po' tardi, ma inquadriamo così, sono i taxi, vado i bus, oh, c'è un altro bus lì, continuo a registrare, però sta venendo l'autista, Grazie. No, ma non è quello. Il shuttle bus non è... Ah, ecco il shuttle bus. Dove sei? Ah, e... Questo è qui. Mi pare richiede, mi sa che ho... gli errori che faccio. Lui dice che questo qua è il bus di navetti, però forse da quello lì mi sono distratto. Non so se fosse fermo lì. Va bene. Qua mi sa che ci vorrà tempo. Cosa faccio? Cosa dico? Devo parlare? Faccio vedere la gente, mamma. Non ho niente da dire, sono stanco, mi sono addormentato alle 4 e svegliato alle 9. Vabbè, non mi sento in forma, però va bene. Più o meno. Dai, dai. Si parte, si parte. E' vista. A quanto stiamo? Vabbè, qua si è andata per le lunghe. Stacco. Parico così. Grazie.